Corteo di lavoratori della AXONOBEL di Scorzè, stamane ha messo il tavolo con i vertici e la regione, ma l'azienda resta ferma nella sua posizione, 50 i posti a rischio. Notte di terrore a Venezia, nel fine settimana un vigilante si è in servizio, è stato accoltellato con tre fendenti da un gruppo di albanesi, zona rialto, è grave ma non è in pericolo di vita. Continuano le spaccate a Marghera, questa volta i ladri hanno puntato la palestra di via Fratelli Bandiera, ma sono sfuggiti a mani vuote, i cittadini chiedono più controlli. 13 supertelecamere segnaleranno in tempo reale l'ingresso di auto sospette rubate nella città metropolitana, sul ponte della Libertà, già sanzionati centinaia di automobilisti senza assicurazione né revisione. Accelerazione sull'autonomia domani, un preconsiglio dei ministri, l'annuncio del ministro per le riforme Casellati a Venezia, che ribadisce, è scritta nella Costituzione. Ministro Casellati, che era a Venezia per firmare l'accordo con il Veneto per sburocratizzare la macchina della pubblica amministrazione, il primo di questo tipo in Italia. Contro di me due anni di fango, Vittorio Zappalorto traccia il bilancio di fine mandato, ricordando le accuse della procura di Gorizia legate alla gestione dei centri per immigrati di Gradisca di Sozzo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri TG. Avete sentito questi titoli delle principali notizie di oggi, ma in apertura del notiziario, come ogni lunedì e martedì, quello che è il tema del nostro sondaggio di oggi, già lanciato nella prima edizione, che riguarda la proposta della conferenza delle regioni per togliere il tetto ai mandati per i presidenti delle regioni e gli assessori regionali. Una soluzione che nel primo caso consentirebbe al governatore Zaia di ricandidarsi alla guida di Palazzo Balbi. Allora vi chiediamo, governatore e assessori, mantenere il limite dei mandati? Se per voi la risposta è sì, fate una chiamata allo 0422 1626691. Se per voi invece è giusto non mantenere il limite dei mandati, uno squillo allo 0422 1626690. Ed ora passiamo alle notizie, alla cronaca di oggi, cronaca sindacale in primo piano, perché questa mattina c'è stato il corteo dei lavoratori dell'Axonobel di Scorzè, questa mattina a Mestre poi il tavolo con i vertici della regione, ma l'azienda rimane ferma sulle proprie posizioni, sono una cinquantina i posti a rischio. Siamo qui appunto per manifestare il nostro intento di preservare, di tenere dei posti di lavoro con questa azienda, perché l'azienda comunque è un'azienda sana, ci comunica il licenziamento o comunque la chiusura del sito semplicemente perché vuole trasferire delle produzioni. E di questo non vorremmo per forza, a tutti i costi diciamo, rinunciare questa nostra protesta. I dipendenti dell'Axonobel di Peseggia di Scorzè non mollano e oggi insieme ai sindacati hanno organizzato un volantinaggio davanti alla stazione di Mestre, per poi recarsi in corteo in via Camarcello dove si è svolto il tavolo, cui hanno preso parte i vertici aziendali, l'assessore regionale Donazzan e il sindaco Marcon. A rischio ci sono 50 famiglie perché l'Axonobel, leader mondiale nelle vernici per legno, ha deciso di spostare la produzione all'estero. Durante l'incontro l'azienda è rimasta ferma nella sua posizione. Da qui la proposta dei sindacati di pensare ai lavoratori non solo in termini economici. La possibilità di far insediare quel sito produttivo da altre aziende che potrebbero essere interessate magari, visto che l'azienda è sana, ha i macchinari buoni e ha soprattutto le professionalità con decenni di esperienza, di rilevare l'attività e proseguire così nell'occupazione e nelle attività del settore. I sindacati confidano che l'azienda possa dar loro una risposta domani, nell'incontro che si svolgerà con Confindustria. Intanto il Consiglio metropolitano, riunitosi in mattinata a Cacorner, ha approvato all'unanimità una mozione promossa dai consiglieri di maggioranza e opposizione e condivisa anche dal primo cittadino, impegnandosi ad avviare una serie di interlocuzioni a livello regionale e ministeriare per scongiurare la delocalizzazione. Vertenza Safilo, questa mattina negli stabilimenti dell'azienda si sono svolte le assemblee dei lavoratori in vista dell'incontro unitario che si terrà mercoledì prossimo. Se la chiusura per ora riguarda solo lo stabilimento di Longarone, grande la preoccupazione anche nel quartier generale di Padova. Che ci fossero delle preoccupazioni, sì, ad esempio a Padova il ricorso alla cassa integrazione, che ci aspettassimo una sberla di questo genere, assolutamente no. Nessuno era preparato a una cosa così grossa e così tsunami. Uno schiaffo, un fulmine a Celsereno che da Longarone può allargarsi a Macchiadoglio, allo stabilimento di Santa Maria di Sala e al quartier generale di Padova. Se a Longarone rischiano 472 persone, a Padova gli occupati sono 800 e la preoccupazione nelle assemblee di questa mattina nella città del Santo e Santa Maria di Sala era palpabile. I sindacati sono al lavoro. Mercoledì prossimo alla Cisla di Mestre incontro del coordinamento delle rappresentanze di gruppo per decidere le future azioni. Nel frattempo le segreterie hanno interessato il Ministero per il Made in Italy perché si apra un tavolo nazionale. Ma non basta. C'è un elemento in più che non è scritto nel comunicato Saffido che comunica ricavi superiori a mille milioni di euro nel 2022 e un aumento anche della redditività. Nell'incontro che abbiamo avuto giovedì scorso in regione con la presenza dell'assessore regionale si è anche citata la possibilità di intervenire con un investimento su Padova in automazione. Chiaramente è una cosa che ci interessa ma non ha mancato di sottolineare che questo investimento potrebbe avere o avrà delle ricadute. Per cui a Padova, abbiamo fatto questa mattina le assemblee, la sensazione è ben chiara che l'ongarone è solo l'inizio. La cronaca ora notte di terrore nello scorso fine settimana a Venezia dove un vigilante sin servizio è stato accoltellato con tre fendenti da un gruppo di albanesi ricoverato è grave ma non in pericolo di vita. Prima la rissa poi l'accoltellamento in mezzo a un centinaio di persone, terrore a Venezia e a Rialto in zona Bella Venezia nella notte tra sabato e domenica scorsa con i citati due episodi accadute a distanza di un'ora l'una dall'altro. Il secondo, il più grave, verso l'una del mattino con un vigilante 25enne accoltellato mentre era in servizio alla schiena con tre colpi difendente da un gruppetto molesto di persone di nazionalità albanese. Non hanno gradito le rimostranze dell'addetto alla sicurezza in qualità di portavoce del titolare del locale. Vigilantes salvato dal pronto intervento degli agenti della polizia locale e soprattutto dal giubbotto della divisa così spesso che gli ha fatto da protezione. Molto rischioso perché poteva rimanere veramente paralizzato o anche qualcos'altro. Penso che nei prossimi giorni andrò a trovarlo questo ragazzo perché veramente ha 25 anni e ricevere è assurdo. Poco prima, verso la mezzanotte, il primo episodio con un turista polacco che soggiornava in un B&B della zona che, letteralmente ubriaco, da molestatore è diventato vittima, aggredito dai ragazzi che stavano infastidendo e che a loro volta hanno reagito alle molestie subite provocandogli un trauma cranico e la rottura del setto nasale al punto da finire il pronto soccorso. Confido veramente in ordio che è persona saggia, che conosciamo e che farà il suo lavoro. Quello che ci auguriamo è che lo faccia il più veloce possibile, insomma, questo assolutamente. E continuano le spaccate a Marghera. Stavolta i ladri hanno preso di mira la palestra in via Fratelli Bandiera ma sono andati via a mani vuote. Dopo lo studio extension Ciglia Lesch, a essere presa di mira dei ladri nella notte è stata la polisportiva Santa Monica di via Fratelli Bandiera. Un'altra spaccata a Marghera, le stesse modalità di quelle utilizzate proprio qualche giorno fa nel centro estetico. Quindi non c'entra la banda dei tombini, non c'entra la banda che sfonda le vetrine con l'auto ma il modus operandi questa volta è lo stesso proprio del centro di via dei muratori a Marghera ovvero quello di provare a scardinare la porta per riuscire ad entrare. Ma non ce l'hanno fatta creando solo danni. Il personale di servizio che fa le polizie si è trovato con la porta che praticamente era bloccata perché avevano cercato di aprirla forzandola non riuscendo e comunque dei danni alla porta ovviamente non sono entrati però questo è il quanto. Non è la prima volta che la palestra viene presa di mira. Solo in un anno i tentativi sono stati quattro e la richiesta è sempre la stessa. In passato era già successo qualche anno fa sempre con le stesse modalità e ancora prima buttando giù una delle finestre quindi entrando da dietro dai capannoni dietro. Secondo lei servirebbero più controlli? Sicuramente sì, sicuramente sì, assolutamente. Magari qualche giro in più non sarebbe male. Mentre si indaga per trovare i responsabili che potrebbero essere gli stessi ad aver colpito lo studio estetico. Durante dei controlli su strada i finanziari di Venezia hanno fermato ed arrestato un cittadino albanese trovato in possesso di cocaina. I baschi verdi della compagnia pronto impiego di Venezia hanno fermato a mira un'auto condotta da un cittadino albanese diretto a Dolo. Nascondeva dietro il sedile del conducente oltre tre etti di cocaina. Vista la quantità i finanziari hanno deciso di perquisire anche l'abitazione dell'uomo dove in effetti sono stati rinvenuti altri sei etti di marijuana conservata in una busta termosaldata e otto di cocaina pronti per la vendita. Oltre 1500 euro in contanti, bilancini e materiale da utilizzare per il confezionamento delle dosi. La perquisizione è avvenuta con l'ausilio dell'unità cinofila del gruppo di Tessera. L'albanese è stato arrestato in flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ristretto agli arresti domiciliari. 13 supertelecamere segnaleranno in tempo reale l'ingresso di auto sospette rubate nella città metropolitana. Intanto sono già centinaia gli automobilisti sanzionati sul ponte della Libertà senza revisione né assicurazione. Alla notte soprattutto si scatenano le cose più incredibili. Noi ci stiamo dando da fare, evidentemente è un problema di sicurezza pubblica. Io ho visto gente che parla di questioni sociali eccetera, non c'entra niente. Che uno giri col coltello, accoltella una persona di notte per futili motivi, non c'è nulla di sociale. Semplicemente abbiamo bisogno di norme anche giuridiche che consentono di tenere questa gente, io ho detto già, in cella almeno per qualche notte. Dopo l'accoltellamento di sabato sera a Rialto, il sindaco Luigi Brugnaro torna a chiedere più poteri nel giorno in cui città metropolitana, prefettura, questura e arma dei carabinieri sottoscrivono il protocollo d'intesa sulle 13 telecamere ad alta tecnologia che vigileranno nei comuni veneziani confinanti con altre province, rilevando in tempo reale macchine rubate o segnalate come sospette. I dati vengono raccolti nella Smart Control Room, dove ci sono delle stanze apposta anche per carabinieri, polizia di Stato eccetera, oppure possono essere teletrasmessi. Chiaramente l'idea è quella di trasmettere direttamente alla pattuglia, dove si mettersi nelle prossimità dei portali per fare appunto le fermate in sicurezza. È chiaro che lì ogni comando è autonomo per organizzarsi come credere. Noi mettiamo a disposizione il servizio tecnologico. Al momento le supertelecamere sono attive sulle strade provinciali dei comuni di Gruaro, Teglio Veneto, Annone Veneto, Ceggia, Fossalta di Piave, Fossò e Cona e nei due sensi di marcia del Ponte della Libertà. Nei prossimi mesi ne verranno installate altre sei, mentre quattro sono in fase di progettazione. Le telecamere tra l'altro hanno già pescato solo a Venezia centinaia di automobilisti non in regola con l'assicurazione o la revisione. Questo è un appello che ho fatto ai cittadini. Guardate che non è più così difficile trovarvi, perché capisco i problemi economici, ma non esiste che si gira con le auto senza assicurazione o con la sicurazione scaduta. Perché è chiaro che succede qualcosa e poi quella vittima non sarebbe risarcita. La stessa cosa vale per la revisione dei veicoli. Purtroppo guardiamo le scadenze, controlliamo i libretti, facciamo le cose per bene perché noi dobbiamo applicare la legge. Accelerazione sull'autonomia domani, un preconsiglio dei ministri, l'annuncio della ministra per le riforme casellati, ma le parole di Giorgia Meloni sull'unità del paese riaccendono il dibattito. Se dovesse chiedermi cosa c'è ancora da fare, dico attendere che il governo si decida. Domani ci sarà un preconsiglio, di solito il preconsiglio si fa in vista di un consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi giovedì. Un botta risposta in punta di penna, ma sempre botta risposta è, pur nella cornice di una ospitata importante come quella del ministro delle riforme a Palazzo Balbi. Il governo batta un colpo, dice Zaia, e l'annunciato preconsiglio dei ministri potrebbe portare la legge sull'autonomia in pochi giorni a Roma. Sarebbe il primo step ufficiale per poi passare la palla al Parlamento. Zaia allora diventa più morbido. Questo governo in 100 giorni ha fatto quello che altri non hanno fatto. Abbiamo una norma che introduce l'obbligo della definizione dei livelli essenziali di prestazioni. E dall'altro adesso il fatto che si parli ad ogni piesso spinto della legge di attuazione dell'autonomia significa che qualcuno l'ha scritta e l'ha anche già depositata. Nelle stesse ore però, Giorgia Meloni interviene al progetto Polis, casa dei servizi digitali, sulla semplificazione dei servizi postali. E le sue parole diventano quasi un boomerang. Noi vogliamo unire l'Italia, che vogliamo rafforzare i legami tra le zone centrali e le aree interne. Non ci rassegniamo all'idea che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Una sola Italia con servizi uguali per tutti e diritti uguali per tutti. Eppure Casellati conferma la volontà del governo di andare avanti. L'autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione italiana. Leggendo quello che io ho letto nel testo di legge non c'è alcuna spaccatura. Autonomia differenziata significa migliore allocazione delle risorse attraverso l'individuazione dei LEP che sono livelli essenziali di prestazione. Questa è l'autonomia differenziata nell'ambito di una unità d'Italia che tutti noi vogliamo preservare nello spirito della Costituzione. Già, la Costituzione, che su un altro fronte il governo vuole modificare. È il percorso parallelo sul presidenzialismo, palle in mano proprio a Casellati, che ha sentito in questo periodo tutte le forze politiche prima di stendere un progetto di legge. Adesso mi sono data un po' di giorni per riflettere e poi parlerò con il presidente Meloni e con la maggioranza per mettere a punto una proposta o per fare ulteriori approfondimenti. Ministro Casellati che era a Venezia per la firma di un protocollo sulla sburocratizzazione della macchina della pubblica amministrazione. Sentiamo. La burocrazia è uno stalker che accompagna la nostra quotidianità e che rende la nostra vita come una corsa ad ostacoli. Parole del ministro Casellati che da Venezia a Palazzo Balbi ha definito un nemico quel complesso di leggi e norme che regolano il nostro vivere quotidiano, spesso complicandolo. È come avere sempre un nemico in casa. Così nella presentazione alla stampa della firma sull'accordo in materia di semplificazione normativa con il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. Progetto per sburocratizzare quell'affastellamento di norme tra leggi dello Stato e territoriali, anche eliminando le duplicazioni e sovrapposizioni al fine di rendere più agevole le vite di cittadini e imprese. Accordo che pone il Veneto a capofila per tutto lo stivale la cui esperienza verrà allargata a tutte le regioni italiane in modo che ognuna possa evidenziare le proprie peculiarità. Viaggio che si tradurrà poi in una legge nazionale. Tre i mesi di tempo ora per la nostra regione per elaborare le linee guida dall'apertura del tavolo tecnico cui parteciperanno anche le categorie economiche. In un momento così difficile come quella attuale dove abbiamo una guerra in corso l'aumento delle bollette un'inflazione galoppante eccetera dare un po' di quiete a un cittadino per fare delle cose normali, normalissime impedirli di attraversare cento uffici almeno questo sarebbe un momento di respiro. Si tratta di una vera e propria riforma della pubblica amministrazione che parte dal basso. Per cui dare al nostro paese una situazione di amministrazione snella, efficiente significa dare normalità al nostro paese. Il prefetto di Venezia Vittorio Zappa Lorto lascia l'incarico dopo quattro anni e mezzo di mandato un periodo denso di avvenimenti, di successi ma anche di grosse amarezze. Sentiamo le sue parole. Io per due anni ho vissuto come se avessi avuto un cancro. Vittorio Zappa Lorto termina il mandato da prefetto di Venezia e tracciando un bilancio di questi quattro anni e mezzo ricorda le accuse mosse dalla procura di Gorizia per la gestione dei centri per immigrati di Gradisca di Sonso accuse risalenti al periodo in cui era prefetto di Gorizia come il peggior momento del periodo trascorso a Cacorner peggiore del ricovero in terapia intensiva per Covid all'ospedale civile di Venezia. Per due anni io sono rimasto con il fango di questa infamia che mi è stata fatta in maniera gratuita da due magistrati incompetenti cioè da due magistrati che non conoscono il loro mestiere e il procuratore generale in pochi giorni ha capito come erano andate le cose e mi ha chiesto anche scusa. Commissario straordinario al comune dal luglio 2014 al giugno del 2015 Zappa Lorto è diventato prefetto nel luglio del 2018. La crisi del Covid doveva ancora arrivare l'emergenza primaria era la gestione dei flussi migratori quindi in Veneto i processi e le prime condanne per mafia Camorra e Andrangheta. La vicenda di Eraclea io avevo chiesto lo scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata il ministero dell'interno ha detto che non ricorrevano i presupposti ma io non ho mai capito perché ci sia stato quel diniego. E poi c'è stata la gestione di tutte le grandi manifestazioni che avvengono a Venezia con degli extra straordinari come il G20 dell'economia nel luglio del 2021 o la concessione eccezionale di Piazza San Marco per la manifestazione per la pace in Ucraina. Ora nel futuro di Zappalorto dovrebbe esserci la Corte dei Conti chi arriverà dopo di lui invece dovrà fare i conti con una carenza d'organico che continua a colpire anche la prefettura. Noi abbiamo 13 persone in meno di punto in bianco spero che a livello del governo ci riflettino su questa cosa e che provvedano a fare qualche cosa. Una diffida al sindaco e assessore competente a presentare entro 30 giorni il bando per l'assegnazione di posti auto al garage comunale di Venezia l'ha presentata l'associazione 25 aprile. Il bando è stato annunciato più volte ma tutt'oggi non è ancora stato presentato. Da quanto si sta attendendo a Venezia un bando per assegnazione di posti al garage comunale? Sono 12 anni che i cittadini veneziani attendono questo bando per l'emissione. Più lungo del viaggio di ritorno ad Itaca di Ulisse l'arrivo del bando di assegnazione di posti auto in garage comunale a Venezia è ora oggetto di una diffida dell'associazione 25 aprile che chiede a sindaco ed assessore competente di presentare il testo entro 30 giorni. Con riserva, si legge, di valutare ogni ulteriore iniziativa a tutela degli interessi legittimi dei residenti. Che cosa significa in termini molto pratici diffidare qualcuno o qualcosa? Significa in termini pratici dare poi un seguito, un seguito legale a questa intimazione, a questa diffida, a questo atto. Quindi noi queste cose non vogliamo farle normalmente, non le facciamo quasi mai come associazione 25 aprile ma in questo caso se noi scriviamo una diffida vuol dire che poi vogliamo andare avanti se necessario ma confidiamo che questo non sia necessario. Tra annunci di entrata in vigore e seguenti rinvii il bando del garage comunale è oramai apertamente in lizza col contributo d'accesso per il primato di provvedimento più rimandato del comune di Venezia. Secondo la consigliera Monica Sambo, solo negli ultimi anni il primo annuncio si perde nelle nebbie del 2016 quando era stato dato per imminente. Se ne ritrova traccia nel 2019, nel 2020 e nel 2021 con promessa di pubblicazione del bando prima entro gennaio 2022 quindi a primavera e infine entro settembre. Incerto anche il numero di posti stimati in una forbice tra 200 e 300. Quanto c'è bisogno di questi posti a Venezia? Ce n'è molto bisogno per chi vive qui, ha diritto al suo tempo libero a potersi muovere qui parliamo di mobilità e di sostenibilità e anche per lavorare, chi lavora fuori ma anche il flusso contrario di pendolarismo chi vive nel comune di Venezia ma lavora a Venezia e non sa dove parcheggiare e un 30% di questi posti sarebbero dedicati proprio al... Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi ci salutiamo come sempre con uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Rizzardo SRL da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo Ben trovati al meteo giorni della merla tra alta pressione e spifferi artici la prima parte della settimana sarà contraddistinta da un addolcimento termico e da un tempo buono il dettaglio di martedì 31 gennaio sul Veneto condizioni stabili e soleggiate salvo qualche occasionale passaggio di nubi alte nelle ore più fredde possibili riduzioni della visibilità in pianura con foschie e locali banchi di nebbia è ancora di grado 3 ovvero marcato il pericolo di valanghe sulle dolomiti temperature in contenuto aumento minime tra lo 0 e i meno 3 gradi massime tra 6 e 8 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso al confine con l'Austria al mattino estese gelate anche sulla pianura e non si esclude qualche locale foschia o banco di nebbia sulle zone costiere temperature minime intorno a 1 o meno 2 gradi massime sui 6-10 gradi all'incirca infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà soleggiato ovunque vedete con cielo limpido o velato temperature minime sotto 0 massime sugli 8-10 gradi dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci Rizzardo SRL da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo Rizzardo SRL Rizzardo SRL